CUCCHI STEFANO Sono Cucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1978. Si dichiara innocente o ammette l'a debito? Allora, io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio e colpevole per quanto riguarda la detenzione. Scusi, riforma! Ma sei scemo! Ho un fratello scemo! Avevi detto che stasera dormirei qui. Stasera non posso, vado a fa' un giro con un amico. Che stiamo a fa' qua? E' qua che c'è di bello. Siamo carabinieri, dobbiamo fare una prequisizione. L'hanno arrestato in piena nuca e... uno stava a non ritornare. Devi dirci la verità e basta. E' da 15 anni che la verità è sta roba qua. Niente è successo. E' meglio che dormivano qui. Dobbiamo entrare. Almeno sapere come sta. Non sappiamo neanche che cosa gli è successo esattamente. Possiamo parlare con i medici? Cosa è successo? Sono male, c'ho freddo. Fammi vedere questi occhi. Lasciate questa, eh! Scrivi che il paziente ha rifiuto la visita. Dolore traditore. Viene fuori piano piano. Guardia! Abbraccio nuovo. Buon patrone. Buon patrone. Sì. Sì. Grazie a tutti.